ed ora andiamo avanti ancora con la musica adesso è il momento di presentare un cantautore rock Paolo Cara in questa puntata di Agri Music Tour ci canterà un suo successo come libri. Ciao sono Paolo Cara cantautore e questa puntata di Agri Music Tour vi presento come libri iscritta con un commento a Luca Faccio a Lello Scarpati e a Demiara Campesano ci sono libri che non hai mai letto ci sono libri che non hai mai visto ma tu ma tu che razza di pagina sei ci sono libri che non scrivono tutto ci sono libri che non hai mai incontrato ma tu ma tu quale capitolo sei ma siamo mondi ma siamo tracce in queste pagine come pace siamo frasi siamo voci in certe pagine veloci ma siamo libri che non siamo liberi di pensare di parlare di suonare di sognare Ci sono libri che non dicono mai niente Ci sono libri impressi nella tua mente Ma tu, ma tu, che razza di pagina sei Ci sono libri che non l'hanno mai scritto Ci sono libri che non dicono tutto Ma tu, ma tu, quale capitolo sei? Passiamo mondi ma siamo tracce In queste pagine come facce Siamo frasi, siamo voci In certe pagine feroci Ma siamo libri, siamo libri Di pensare, di parlare Di suonare Di sognare Di sognare Di sognare Di sognare Di sognare Grazie.